Buongiorno, versione corta per chi non ha voglia di ascoltare le mie lunghe chiacchiere. Ah, che bella, buona mattina a tutti. Noi stiamo preparandoci per fare una gita. Noi che i minu dorme, ora sta in giro, le ragazze stanno arrivando, i cibi sono pronti, la stufa l'ho pulita, i tu bianchi. Ho rimontato tutto, ce l'ho fatta da sola senza far danni. E i riservi alla fuligine ce l'avevo in ogni dove, però mi sono solo rimasti i tegami da lavare perché io stanotte dovevo fare quello, quello, quell'altro, ho finito di fare quello, ho cucinato per le mie ragazze cibo d'asporto. Mi raccomando, eh, non classiche, dobbiamo... Oh, e quindi cosa abbiamo oggi? Abbiamo delle torte di verdura, torte di verdura e miglio, allora, torte di miglio e broccolo romanisco, torte di verdure miste, quindi zucchine, carote, cipolle, cipollota, e patate. E poi cosa che abbiamo? Non me lo ricordo più, aiutatemi. Ho preparato la torta, quella senza... Senza zucchero, di farina di castagne e miele, ci ho messo tre belle melette, e poi ho da preparare la... ecco, vado a preparare la ciotola col tappo, col tonne e fagiolini, tanto tonne e fagiolini, ho preparato le gallette di riso, quindi, ah, devo preparare la carafa termica con dentro l'infuso, devo preparare ancora tutto, devo ancora farmi una doccia vestirmi, perché ho chiacchierato con voi quasi un'ora, eh, con la parte che ama le chiacchiere lunghe. Di cosa vi voglio chiacchierare veloce veloce? Ah, che ho preso le mani di fata, ieri l'altro, e sempre, sono sempre più, io li vedo sempre più magri, queste cose, sono a dieta, arrivo l'estate, andiamo a fare la prova costume, e questa cosa qua poi della prova costume, ma che cosa siamo diventati qua? Allora, all'interno ci sono, c'è della maglieria, c'è del crochet, mi piace, ripenso al gas, il gas è certo abbinato a come lo abbinerei io, cioè con il soffio grigio melange, oh Dio che accoppiata meravigliosa, ho fatto un campione e ho detto, sì, poi ti faccio, ma tante altre cose sono arrivate poi, tante cose da fare, non so se l'ho fatto prima o dopo l'arrivo delle gemelline, però il gas, che ha un cotone particolare, gasato, è bello, è adatto al filet da indossare, è morbido, proprio, ah, che caresse, e sì, sto le, sto le, io lo vedo proprio abbinato al soffio, è bello anche in purezza, ma io nero non lo, non lo lavoro con gioia, non lo indosso manco con gioia, ma capita di indossarlo, ma l'abbinata gas e soffio, quel colore, non vi consiglio dei contrasti, perché non li, con quel genere lì, non li vivo io bene, e mi piace proprio come si diffonde quel melange di grigi, intensi anche, con quel nero, ma soprattutto come si insinua nella doppia torsione del gas, il soffio, ecco, quell'insieme tra melange del soffio, dimensione del soffio, natura del soffio, ricordo che è il moer, il kid moer proposto dalle lollo, che ha un 80 kid moer e 20 viscosa, e i moer non sono tutti uguali, così come il kid silk non sono tutti uguali, ricordo che, quando troviamo del kid moer, se non è specificato, di solito è un 70% kid moer, e 30% nylon, di solito, in commercio, guardiamo bene le etichette, arriva anche ad avere il 40% di nylon, poi esiste il kid silk, ed è un'altra cosa, sono prodotti di solito diversi, quando vedete sulle fascette, c'è scritto kid silk, guardate, e vedete che c'è il nylon, come, scusate, sostegno alle fibre, il prodotto delle lollo, ha invece il 20% di viscosa, ha una sua torsione particolare, nella parte proprio, il cuore del filato, è particolare, particolarmente più corposo, rispetto ad altri, rimane bello sottile, e ha una distribuzione, delle pelurie, piuttosto regolare, non ci sono degli sbuffi improvvisi, come in tanti altri kid moer, che sono belli, sapete che io colleziono, il kid moer è uno dei miei amori, proprio smodati, lo infilo da tutte le parti, e caratterizza molto, dei miei scialli, il kid moer, a un filo, o abbinato ad altro, e però l'abbinata gas, che purtroppo è rimasto solo nero, io amavo anche il bianco, era bianco e nero, se pensate di fare, una stola o uno scialle, le stole di solito, sono un po' più contenute, nelle dimensioni, la differenza fra stola e scialle, è quello, le stole sono dei rettangoli, lo scialle come parola, comprende anche vari triangoli, di tutte le dimensioni, però come rettangolo, la stola, ha delle dimensioni contenute, in larghezza, e in lunghezza, immaginate un po' la stola di visone, che abbiamo visto in tanti film, ecco, è un rettangolo, che sembra quasi solo, un coprispalle, mentre i rettangoli, che sono a alti, diciamo già oltre, dai 35-40 centimetri, e che arrivano ben oltre il nostro gomito, non sono più stole, ma sono già degli scialli, così per capirci, adesso poi, che tutto diventa tutto, che tutto si chiama come tutto, diventa confuso, ed è una cosa anche un po' indotta, è questa confusione, che tutto si chiama come tutto, così non ci capiamo più un piffero, ecco, se volete farvi delle stole, abbiamo, qualsiasi motivo filet che vi piaccia, ma come disegnerà i pieni, ovviamente non va strizzettato, non deve essere lasco, ma non deve essere neanche strizzettato, come dobbiamo fare invece, nei centrini, cioè, i centrini, per leggere bene i motivi, uffa, devono essere composti, la mano deve essere regolare, il filato si deve vedere, ma non deve comporre punti irregolari, creare i gobbe, la descrizione sono veloce, di un centro ben fatto, a filet, i pieni devono essere ben visibili, i vuoti ben visibili, i vuoti devono avere la stessa dimensione, e i pieni anche, nella realizzazione della stola che ho in mente, dello scialle che ho in mente, col filet abbinando quei due filati, la mano deve essere un pochino più morbida, in modo che il muoer si manifesti, però, di pari passo, il gas deve disegnare dei bei pieni, e condurre dei bei vuoti, ci sono nel mani di fata di questo mese, cioè del mese prossimo di aprile, è già uscito, andatevelo a prendere che è carino, nella versione lunga, l'ho fatto vedere le cose di maglia ed uncinetto da indossare, e l'abbinata vuole, adesso non mi ricordo che calibro, comunque è bello, il gas, quel colore, senza stacqua, ci deve essere continuità addolcita, tra nero e grigi, un bel motivo a rose stilizzate, come proposto, in una stola, in una canotta, del mani di fata, lo faccio vedere anche a voi, del corto, mannaggia, lo vado a cercare, che mi è lontano, ma ci sono delle cose veramente carine, avvieni qua, eccola qua, queste rose sono adatte, perché sono belle pulite, ben definite, non ci sono troppi ghirigori, per realizzare questo motivo, è una stola simile, io come ho detto nel lungo, insomma ho fatto i miei commenti a riguardo, ma ci sono più particolari, che con gusto, maniera e su carta millimetrata, potete elaborare, utilizzando quel filato, che è più spesso, di quello proposto, in questo caso, e ottenere, una bella, un bel capo, potete fare un triangolo, se siete bravi, a disegnare il triangolo, distribuendo queste rose, come volete voi, distanziando, come desiderate voi, utilizzando anche questo motivo, facendolo crescere, insomma, questo, ecco quello che mi piace, che da una cosa, poi ne possiamo fare altra, e io vi consiglio quello, non ve lo consiglio, con lo stacco di colore, poi potete usarlo come vi pare, potete usarlo anche puro, ma l'abbinata dei due, che spesso non ho quei capi, è vero che il supporto è cotone, ma il moer, se lo avviluppa, se lo avvolge tutto, quindi, sarà una storia, visto che è nero, visto che è grigio, passepartout, senza stagione, ecco, anche se il supporto è cotone, e che bel cotone, che è il gas, proprio per questo tipo di lavoro, è arrivato, finalmente, e mi piace questa canotta, la trovo deliziosa, anche se vi ho detto, insomma, che tutto quello che è evocativo, del corpo umano, a me non piace, tutto ciò che va a concentrare l'attenzione, su parti del corpo, non mi piace, sarò anche una bacchettona, non mi piace, tutto allusivo, mai alludere, diventa diventato un costume, troppo, troppo esagerato, basta, ormai basta, che noia, quindi, un bel top sotto, oppure lo si può indossare, su un dei, degli abitini a sottoveste, è carina, molto elegante, sportiva, e giovanile, lo trovo proprio carino, questo capo, è il cotone, il filato è molto sottile, però, però, ecco, il gas, non lo so se lo userei per fare questo tipo di top, però, però, potrebbe andare il, il sirio, potrebbe, il sirio potrebbe, certo, non così compatto, non sono la stessa cosa, però il sirio potrebbe andare bene, lo devo campionare, e poi ci sono delle maglie molto carine, ci sono degli esempi che poi richiacchiereremo, questo, e questo mi è piaciuto tanto, questo me lo farò perché mi serve, e quindi lo farò, mi serve per un abito che ho senza maniche, e lo stile si abbina a quell'abito che vi farò vedere, vi auguro una buona giornata, oggi si va all'argo con le mie bambine, poi chiacchiererò di questo con mia figlia, perché abbiamo delle cose, che diamo questo amore adesso per il crochet in famiglia, e così bello chiacchierare con i propri figli, dello stesso interesse, vi amo tutti proprio, anche i belli, anche i brutti, ma siamo capaci di amare, ma sappiamo cosa vuol dire amare? Ah, amare, amare, mi sta venendo una cosa, amare, ecco l'arba lì, vero? Va bene, vi abbraccio, vi abbraccio tutte le amiche del canale, gli amici, e anche i nemici, e fatevi abbracciare, mamma mia, e basta questo livor nel cor, buon tutto, vado a farmi un caffè.